Buongiorno a tutti, eccoci qua, un'altra giornata bellissima, abbiamo passato una notte eccezionale, abbiamo quasi 12 giorni, non ero particolarmente stanco, ma si stava bene perché non c'era caldo, si stavano belli i peschi, bellissimi, paesini molto belli, abbiamo appena attraversato Montalcino, che tutti conoscono io, è stato un ottobino, un unello di superciato, siamo a 30 km, sono arrivata a Siena, è stato un'ottima stessa, è stato un'ottima stessa su Stato di Tavaro, e poi pieno di vino, pieno di fai, stesse, bellissime, paesaggi veramente molto molto belli. Detto ciò, ogni paese ci verrebbe di fermarci, ma noi non possiamo, perché non ci bastano tanti giorni di arrivare, non ci bastano, non ci bastano, non ci bastano, non ci bastano, insomma fare tante cose, questi giorni sono pochi, dobbiamo lavorare, quindi non possiamo permetterci di restare troppo fermi, ma torneremo in questi posti, perché sono molto molto belli, e adesso oggi arriveremo a Siena fra poco, visiteremo Siena, ma contiamo di muoverci in serata e dormire, appunto, in alcuni paesini limitrofi, che sono molto più belli. Che dire, siamo qui, c'è sempre estere il nostro operatore, c'è il nostro operatore che non perde di vista nulla, guardate che paesaggi, una cosa spettacolare, poi ogni paesino qui, sono molto belli, con case storiche, antiche, ville, ville bellissime, tutte vigneti, luoghi veramente ricchi e vivi, soprattutto non c'è nulla di abbandonato, qui è tutto coltivato, questo è bello, molto bello. Vi informeremo, vi teniamo aggiornati, ci fa piacere come sempre, perché vi sentiamo vicini, mandandovi i nostri video, oggi è un'altra giornata, vi faremo vedere altri video più tardi se ce n'è, ecco qua, guarda le vigne del Brunello, guarda le vigne come sono curate, le vigne del Brunello, sono sempre un'opera d'ora, guardate, e vabbè, quindi che dire, buona giornata a tutti e ci sentiamo più tardi.